E' partita da Teramo la visita istituzionale in Abruzzo del sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, che ha fatto la prima tappa a Campo Boario nella sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise. Alla visita hanno preso parte anche il Presidente della Regione Marco Marsiglio e l'Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì. Accolto dalla direzione dei componenti del CDA dell'Istituto, il sottosegretario ha sottolineato durante l'incontro il ruolo centrale delle eccellenze scientifiche, come l'IZS, nel contrasto della pandemia. A livello nazionale l'Istituto Zooprofilattico di Termo veramente rappresenta una grande eccellenza, un grande orgoglio. Questo è stato fatto un lavoro straordinario anche sul sequenziamento del virus, che è un aspetto fondamentale sul quale ovviamente dobbiamo investire ancora di più e dobbiamo mettere nelle condizioni queste eccellenze di poter lavorare ancora meglio, perché danno un contributo fondamentale per affrontare anche scenari futuri. Oggi diciamo che le quattro varianti che sono sostanzialmente in circolo, fortunatamente i vaccini di cui disponiamo sono in grado di dare una risposta positiva. Quindi credo che questo sia un aspetto fondamentale. È chiaro che dobbiamo essere sempre prudenti, vigilare, dobbiamo monitorare e essere pronti a eventuali altri scenari. Ma oggi, stante la situazione, stante i dati che abbiamo, credo che possiamo affrontare con serenità e con una prospettiva positiva nelle prossime settimane, nella convinzione e nella speranza che siamo ormai vicini all'uscita da questa pandemia. Ovviamente dobbiamo sempre usare prudenza, cautela, senso di responsabilità, ma quel senso di responsabilità che i cittadini non hanno mai fatto mancare in questo oltre anno e mezzo ormai di pandemia. Abbiamo proprio oggi presentato una serie di numeri molto importanti sui risultati che la nostra regione ha conseguito nella lotta alla pandemia e nella campagna vaccinale. Ringrazio anzi il sottosegretario non solo per la sua presenza qui, la sua visita qui e la vicinanza quindi dello Stato, ma anche per le parole che ha detto in un'intervista in cui ha riconosciuto il modello esemplare di questa regione nella battaglia alla pandemia. Il presidente Marsiglio ricordava un po' le parole dette dal sottosegretario che elogiava l'Abruzzo per il lavoro che ha portato avanti fino ad oggi. Sì, in effetti l'Abruzzo ha fatto sistema tra la sanità pubblica umana, gli ospedali e la parte veterinaria con l'istituto zoprofilattico che si è occupato di fare attività di diagnosi sui tamponi e tutta l'attività di ricerca correlata.